Il prossimo anno i pensionati imperiesi al minimo dovranno accontentarsi di un solo euro e mezzo di aumento mensile che non gli basterà neanche per comprarsi un litro di latte. Come ogni anno, infatti, dal primo gennaio, le pensioni dovranno essere rivalutate per compensare la perdita di potere d'acquisto dovuto all'inflazione che si è verificata nell'anno precedente, ovvero in questo 2014. Questa volta però i pensionati si troveranno in tasca solo qualche spicciolo in più, a causa del bassissimo tasso di inflazione che si sta registrando nell'anno in corso, con un'inflazione addirittura negativa, ovvero la deflazione in alcuni periodi dell'anno. Fattori economici che, diversamente a quanto potrebbe sembrare all'apparenza, non sono di vantaggio ai pensionati, molti dei quali, con questi aumenti insignificanti, si troveranno un po' più poveri nel 2015. Sull'impoverimento dei pensionati con trattamenti bassi e bassissimi, ha infatti detto Gianni Dione, presidente dell'ANAP d'Imperia, agiscono poi in maniera più determinante gli aumenti dei costi dei servizi pubblici, il progressivo ritiro del pubblico dalla sociale e la necessità o l'obbligo di ricorrere spesso a servizi privati. Molti di questi fattori non vengono rilevati ai fini dell'Instat per la valutazione delle pensioni. Per questo l'ANAP della Confartigianato e la Cupla hanno chiesto la modifica dei meccanismi volti a tutelare il potere d'acquisto delle pensioni. Nelle 2015 avremo gli importi mensili di pensione pari a la minima 502,38 euro, la sociale 369,63 euro e l'assegno sociale a 448,50 euro. Tutto questo mentre si assiste a episodi sicuramente non certo positivi a Roma e anche altrove, con stipendi e pensioni a tantissimi zeri. Grazie. Grazie a tutti.